Il Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina dedica un pomeriggio all'approfondimento della figura di Ducezio, re dei Siculi, poeta e condottiero tra i grandi protagonisti della storia della Sicilia del V secolo a.C. L'occasione sarà la presentazione del volume Ducezio, Enigma e Utopia, di Calogeno Miciche, venerdì 27 gennaio alle ore 17 nella Sala Conferenze di Palazzo Trigone, Museo della Città e del Territorio di Piazza Armerina. Insieme all'autore sarà presente Emilio Galvagno, docente di storia greca nell'Università di Catania. Il volume di Miciche è una biografia di Ducezio nella quale vengono approfondite tematiche legate ai Siculi e ai loro rapporti con i greci, in un periodo documentato solo da fonti greche e per lo più di tipo militare, non essendovi una letteratura sicula. Le notizie che riguardano il sovrano provengono da un'unica fonte, la Biblioteca Istorica, l'opera di storia universale scritta da Diodoro Siculo, che ne traccia un ritratto piuttosto enigmatico, unico dato certo il prestigio che gli deriva dall'appartenere all'elite emergenti sicule. L'opera si sofferma sulle esigenze delle comunità sicule disseminate nella Mesogheia, la Sicilia centro-meridionale, espressione di un'aristocrazia ambiamente permeata dalla cultura greca.